Ciao da Svideogame! Saluto quei mattacchioni di Marco e Antonello della trasmissione Il Ruggito del Coniglio di Radio 2 perché il 19 dicembre, e poi chi lo vuole sentirlo può seguire tramite il podcast, magari vi metterò anche l'indirizzo qua in descrizione se uno vuole ascoltarsi il podcast, comunque adesso fra poco vi faccio sentire un pezzettino mi hanno fatto passare per radio anche questa volta, lo sapete tempo fa avevo girato un video, sono passato su Radio 2 e mi hanno fatto sentire la mia canzone stavolta non hanno fatto sentire Accorgiti di me, ma hanno fatto sentire un'altra canzone che è Facciamo la Pace al di là che siano un contest fra praticamente sì, che non vuol dire che siano canzoni belle, lo scontro, no, tutt'altro però io vi ripeto, il fatto che facciano passare più di una delle mie canzoni per Radio Nazionale per me è sempre una cosa spettacolare io vi diverto troppo il fatto che le mie canzoni siano trasmesse per Radio vabbè dai, poi dai, sono divertenti, si sa, è una trasmissione scherzosa e comunque hanno fatto sentire la mia canzone Facciamo la Pace ma niente dai, vi faccio sentire un pezzettino del podcast non penso che sia un problema, perché se loro non mi chiedono il permesso per far sentire le mie canzoni non penso che io debba chiedere un permesso a loro per far sentire un pezzettino anche perché nel pezzettino c'è la mia canzone, quindi... ok dai, vi faccio ascoltare il campione in carica però è molto agguerrito è molto forte è s videogame Facciamo la Pace eccola sbaglio tutto con te bravo ecco niente giusto per te niente niente, niente è sempre una battaglia eh 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 ci trovi il gusto secondo me eh, si ha quest'impressione, si e la lezione qual'è? qual'è? qual'è la lezione? che devi dare a me che devi darla a me ha detto? no che devi dare a me la lezione come sei zitta e ascoltami adesso oh, fai il baschio dominante è il baschio alfa, sì io non sono un cantante questo si è capito uno stupido affesso vedi, va oltre e va oltre non hai detto che quel che fa bene è per te ma che vuol dire? deve per forza andare bene anche per me e dire a Renzi non hai detto che tu abbia la verità in tasca in tasca, bravo se non esiste quasi nessuno che la conosca grazie è quasi filosofia basta, portatelo via ecco allora, amici cari, votate voi eh, votate voi pronto? ciao chi sei? buongiorno per chi voti? pronto? sì sì la seconda, la seconda tutta la vita tutta la vita mi sembra francamente tutta la vita è che è una condanna ciao ciao però uno a zero andiamo avanti pronto qui Radio 2 chi sei? buongiorno pronto, buongiorno allora, per chi voti? mi chiamo Ettore sono io? eh, se non lo sei tu spero di sì io lo so però e non so se sono in linea sì io voterei per la prima scusa se non te l'ho detto per la prima va bene ciao caro grazie piace molto grazie Ettore ciao Ettore ancora buongiorno pronto? buongiorno ciao sono Massimo allora voto per la seconda sì voto per la seconda ma mi hanno mandato la maglietta eh, però anche tu sei avido vabbè, vedremo che si può fare ciao quindi Svideogame è in vantaggio 2-1 capione in carica pronto, abbiamo una telefonata ciao, chi sei? ciao buongiorno buongiorno come ti chiami? sono Alessandro Alessandro per chi voti? allora io voterei il pinguino transalpino eh, ma no è già andato in finale ha già passato il turno eh, sì allora la seconda la seconda Svideogame grazie ciao Ale quindi Svideogame vince il secondo scontro capito è beh, è bravo resta solo un ostacolo per impedire no, vabbè ma noi poi vi tremo è un brano che sgomenta assolutamente vabbè assolutamente sì va bene ragazzi ecco vi ho fatto sentire questo pezzetto e devo dire che la cosa divertente è che mi ha telefonato mio fratello da Roma io ho due fratelli comunque uno abita a Roma mi ha telefonato e mi ha detto ma mi fai il tuo best off il tuo best off di canzoni e poi mi ha spiegato che mi aveva sentito per radio è stato molto divertente come cosa e niente dai sono il campione in carica dai è sempre forte sentirsi sentire la tua canzone trasmessa dalla radio anche se la prendono in giro ma ragazzi ma chi se ne frega è sempre la tua canzone passata per radio io non pensavo neanche di passare per radio nazionale quindi ne hanno già fatta passare più di una già accorgiti di me facciamo la pace che presentino anche altre canzoni io dico una cosa se alla fine io vinco tra quelle più brutte potrei aver fatto le meno brutte la meno brutta tra le brutte vedremo vedremo intanto ciao da svideo ciao 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 ciao